Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce del cielo. Viva il grande Eusebio, salvatore dell'anima mia! Viva il grande Eusebio, salvatore dell'anima mia! Quando infuriata... Che poi a guardarmi confondo pure io, cioè... Che posso andare per i fatti miei, però c'è, non lo so, come un tocco di confusione. Allora, però sono bravi, eh? Attenzione, bravi! Quando infuriata tempesta ed il tono fa paura In campagna o fra le mura San Eusebio è grande Eusebio! San Eusebio, salvatore dell'anima mia! Viva il grande Eusebio! Mi siete io o mi siete voi? Non lo so! Dio li fa e poi la accocchia! Attenzione, pronti? Cannucce in bocca? Vai! La morte si fa scura Senza stelle, senza luna C'è una grande luce nel cielo Viva San Eusebio, salvatore dell'anima mia! Viva San Eusebio, salvatore dell'anima mia! Ma voi vi conoscevate tutte e tre tra le voi? No! Questo è il bello di questi momenti Tre persone, uno da Milano, l'altro da Dota, le ferrovie, l'altra... Non si conoscevano, adesso stanno... condividono un palco insieme E' bello perché da domani se vi incontrate potrete dirvi Ti ricordi la figura di merda del 93, certo? E' un altro pianeta, adesso è tutto più bello Allora pronti? Seduti? Seduti! Attenzione! Mannaggia la musica! Cannucci in bocca! Vai! Curia la tempesta Ed il cuono fa paura In campagna o fra le mura San Eusebio è qui con me San Eusebio, protettore Tu sei il mio più grande amore Viva, viva San Eusebio Protettore del mio cuore Quando il sole se ne è andato E la notte si fattura Senza stelle, senza luna C'è una grande luce nel cielo Viva San Eusebio Facciamo un applauso all'umanità del mio cuore Già stavo di coglioni in questo Mo' proprio... Vieni qua, mettiti là così Vieni qua, vieni Mettiti qua vicino a Zio Uccio Zio Uccio? Stiamo sotto controllo Attenzione, pronti? Seduti Lui capisco che è in ritardo perché lavorava alle ferrovie Ma pure, vieni qua! 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 a voi dirmi chi è stato il più bravo allora tutti in piedi ragazzi tutti in piedi ragazzi ma non ve lo udete lasciate il cappello sulla sedia la cannuccia me la tenete poi vi dico questa sedia dovete fare la cannuccia una a uno allora tu stavi qui tu stavi qui farete l'applauso solo a uno dei tre se fate l'applauso a lui non lo potete fare agli altri due decidete a chi dare il vostro voto attenzione se vi è piaciuto lui applauso per lui se vi è piaciuto lui applauso invece per lui se vi è piaciuto lui applauso per lui hai visto quanta beneficenza che facciamo noi quando una cosa dispiace noi lo facciamo anche per la tua famiglia con chi sei venuto qua da Milano? tu e i miei figli i miei figli e tua figlia? i miei figli e mia moglie quanti siete? un quarto basta faccio un nipote maschio 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 oh e chi è? scunta a chi? maschio ah forse è maschio torna giù vai in appena vai in appena sparisce allora signori dal vostro applauso risulta vincitore lui le mani andale hai vinto il DVD del MUDU e adesso te lo do alla fine lo spettacolo perché non ce l'ho qui intanto adesso dobbiamo fare tra pochissimo una premiazione va bene e voi invece al massimo me lo fate masterizzare da lui per la mia parte ce l'hai masterizzatore? no masterizzatore? cos'è sto? scusate cos'è? è quello che metti è masterizzato tipo ma è giù anzi e che cosa è masterizzato? quello ahia perché io non che tu non che tu non che puoi pensare a me ahia è crudio è forte e d'anzi dimmi arrivederci ehi fatti vedere mi raccomando da uno bravo proprio piacere se no non passa voglio l'applauso a tutte e tre le amici grazie ciao